Dall'industria 4.0 alle professionalità del futuro, Erosmith in Maratea ha preso il via questa mattina al pianeta Maratea con la seconda edizione del più grande festival euro-mediterraneo su innovazione e impresa. Oltre 100 gli appuntamenti in programma per una platea composta da start-up, piccole e medie imprese, ricercatori, digital talents, policy maker e investitori. Una rete di professionalità diverse ma complementari che per la seconda volta trova proprio al sud la propria linfa vitale. Ma da dove è nato e si è sviluppato questo evento? L'idea è nata guardando al mondo dell'innovazione che ha qualche problema di comunicazione, le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a parlare con le start-up, le grandi imprese che hanno difficoltà a parlare con il mondo universitario e che hanno necessità di un elemento di connessione. Quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di costruire un linguaggio comune e mettere in connessione questi mondi, cercando di far nascere nuovi progetti condivisi. Tantissimi gli addetti ai lavori che già questa mattina si trovavano nella perla del Tirreno per discutere dei più stringenti temi economici e sociali dell'attualità ma anche e soprattutto per presentare le proprie idee start-up. Circa 200 ospiti, ospiti italiani, nazionali, anche ospiti stranieri che vengono dall'America, che vengono dall'Inghilterra, vengono dalla Spagna, dal Portogallo. Avremo start-up, molte start-up ad tutto l'euro mediterraneo ma anche molte grandi imprese, importanti università e tutto il mondo dell'innovazione. Al centro della seconda edizione dunque l'industria 4.0. Il tema principale quest'anno è sicuramente l'industria 4.0 per questo affronteremo le sfide della tecnologia da diversi punti di vista. Le affronteremo dal punto di vista sicuramente più umanistico e culturale quindi qual è il futuro dell'uomo con l'avvento della tecnologia. Si parla spesso del fatto che tra vent'anni gran parte dei lavori che ci sono oggi non ci saranno più e che le macchine sostituiranno l'uomo. Noi cerchiamo in qualche modo di dare risposta a questo quesito e ci occuperemo di realtà aumentata, di realtà virtuale, di cloud computing, di big data di intelligenza artificiale soprattutto con ospiti molto importanti come ad esempio Davide Venturelli della NASA oppure lui per era di Google. Quindi ci saranno vari focus di approfondimento sul tema di industria 4.0 attraverso tavole rotonde ma anche workshop e testimonianze dirette.